Ciao caro Spirito Eterno, io ti voglio bene, amati, trattati bene, ogni mattina svegliati dicendo oggi è una meravigliosa giornata dell'eternità, io mi regalo il meglio della vita, poi brinda con l'acqua, l'acqua, siccome l'acqua registra il vero brindisi che c'è la salute è io voglio stare bene, l'acqua registra, io merito di stare bene, io scelgo di stare bene, io sto bene, acqua, noi siamo soprattutto acqua, a chi si incarna su questo pianeta o a chi anche si reincarna, bisognerebbe dargli un libretto, come vivere sul pianeta terra, il libretto delle istruzioni, i genitori, i parenti dovrebbero dire allora sei entrato nel ciclo nascita, malattia, vecchiave e morte, oppure sei rientrato, allora ve lo fa ma perché ero morto? Eh sì, hai lasciato un corpo, adesso non hai preso un altro, e poi dirgli ci sono due creazioni, una è la creazione materiale e l'altra è la spiritualità eterna, quindi come spiriti, cioè come entità, come esseri divini, nessuno ci ha creato, però entrando in un corpo, il corpo cambia da 1 a 2 miliardi di cellule, eri piccolissimo in un corpo femminile è chiamato madre, poi si è cresciuto e si è venuto fuori, si è venuto alla luce, nato, nato. Io sull'astrologia ho la mia idea che l'oroscopo andrebbe fatto sul momento del concepimento, non solo la nascita, bisogna vedere l'imprinting, l'impronta che uno riceve dagli astri, dalle stelle, ma molti non sanno quando è, però in India che cosa fanno? Fanno l'opposto, vanno dall'astrologo vedico e dicono qual è il giorno giusto per me, per lei, per concepire un figlio e ti dà alcuni giorni, addirittura anche le ore, in cui è meglio avere una parola sessuale per iniziare quello che si chiama inizio, concepimento. Quindi come vivere sul piantaterra? Regola numero 1, evitare di causare dolore e sofferenza a se stessi e altre entità di viventi. Lo yoga è una scienza spirituale, io ho scritto libri su questo argomento, se mi scrivi te li mando volentieri. Yoga, una parola sanskita che è la lingua devanagar, dei deva, gli abitanti e i pianti superiori e lo yoga cosa dice? Inizia con la pulizia interiore, voglio che ogni negatività abbandoni immediatamente il mio corpo, la mia mente e la pulizia esteriore. Non ingerire pezzi di animali morti, non ingerire sostanze fermentate, non ingerire sostanze tossiche. Quando respiri oltre all'ossigeno assorbi anche il prana, l'energia cosmica. Ricordati che questa esperienza umana ha un inizio e una fine. La fine del corpo, quindi la morte del corpo, non della vita. Quindi la vita è eterna, il corpo no. Confondere la vita col corpo fa sì che uno dice quello ha perso la vita, no ha perso il corpo. Colui è morto, no ha lasciato il corpo. Quindi attenzione, ripeto, se mi scrivi, ho scritto anche libri sulla reincarnazione, ti faccio vedere le copertine, studiali perché la reincarnazione è fondamentale. Quindi come vivere sul pianeta terra? Con amore, amore, rispetto, empatia, capacità di percepire l'emozione degli altri, la capacità di capire cosa fa bene a me, cosa non fa bene, cosa fa bene a lui, a lei, agli altri. Come? Come fare? Come vivere? Cosa fare? D'accordo? Cioè d'accordo vuol dire mettiti d'accordo con te stesso. È vero, io faccio vedere questo indirizzo, molti d'accordo, ma come faccio? Io vivo in una famiglia dove mangio la carne. E vabbè, vivi in una famiglia, cioè decidere, anch'io sono nato in una famiglia dove mangiavo la carne. Ti faccio vedere una mia foto a 15 anni, mi sono seduto sulla spiaggia a San Benedetto del Trondolo e ho detto basta, no? Perché sentivo che il mio livello di coscienza, io avevo ricordi, visioni di luoghi che poi ho scoperto erano l'India, l'Himalaya, il Nepal, il Gange e questi ricordi si affievolivano. E ho detto cosa c'è che non va? Come vivere sul pianeta terra? Con amore. E come faccio a mangiare? Io ho sbagliato. Ho detto ma tu hai fatto sì, però quando me ne sono proprio accorto da oggi, ma non ero una famiglia vegetariana, non ero in un condominio vegetariano, non avevo compagni di scuola vegetariana, non avevo insegnanti, ce l'avevano con me, ma non è che io ero solo contro tutti, ho trovato molti che non erano favorevoli. Poi io ho sempre mantenuto oggi, 2024, i vegetariani sono milioni, milioni di persone, vogliono capire come vivere sul pianeta terra. Un libro che ho scritto ti consiglio, scrivi La prossima vita, che in un certo senso, se uno lo capisce, quel libro si chiama La prossima vita, ma ti aiuta a vivere bene anche questa vita, dove per vita io intento incarnazione. Quindi se vuoi vivere bene la tua incarnazione presente sul pianeta terra, studialo bene questo libro, La prossima vita. Perché? Perché uno muore come ha vissuto, inclusa la morte, perché la maggior parte delle persone non ricordano l'incarnazione presente? A causa di tre cause, malattia, vecchiaia e morte. Siccome sono fenomeni traumatici, io ho vissuto fenomeni nel libro Incontro con la Chiara Luce. Parlo del coma, non parlavo più. Poi ho ripreso con i mantra. Vuoi un consiglio? Leggi tutti i libri, cioè come via sul pianeta terra. Leggi tutti i libri che ho scritto, un po' alla volta. Tanti soldi che tu darai per questi libri, li dai direttamente alla Onlus, libera condivisione Onlus. Quindi fai un doppio guadagno, ti informi e fai del bene. Come vivere sul pianeta terra? Questo è la vera, si vuole chiamare, scuola, la vera spiritualità, la vera cultura. Come può uno pensare che esiste un Dio infinitamente buono, dolce, che ti manda all'inferno? Come puoi pensare che c'è un Dio, un essere su me che ti crea col peccato originale? O ti crea cieco, o ti crea zoppo, o disabile? Ma com'è possibile? Infatti molti hanno dei dubbi. I figli sono un dono di Dio e qualcuno ha detto, e se una viene violentata, che dono è, rimane in città. Allora, attenzione, c'è una sequenza che si chiama nascita, malattia, vecchia, morte, rinascita, malattia, vecchia, samsara. C'è una parola in senso, samsara. Questa parola, samsara, io la spiego nei libri che ho scritto, non c'è nella cultura occidentale. Bisogna chiamarla ciclo ripetuto di nascita, malattia, vecchia, morte, rinascita. Siccome ogni incarnazione, a meno che uno non muore prima, però bisogna vedere come muore, però se uno non muore prima, l'ultima parte si chiude con questa sequenza. Malattia, vecchia, la morte. E' come trovarsi in aperta campagna e arriva un ciclone. E non è facile. 20 a 100 km all'ora, tempesta. E non è facile, no? Quindi noi siamo in un ciclone chiamato samsara dove all'improvviso, o anche non all'improvviso, uno lo sa. Tutti quelli che sembrano giovani e forti non vogliono capire che prima o poi, allora come vivere il suo piantaterra? Bisogna dire ai giovani, tu sei stato vecchio, tu sei morto, sei rinato. La tua mente ha tracce, cicatrici, memorie. Forse hai fatto dei sogni. Ah sì. Forse neanche in sogno. Cioè tu hai come dei ricordi di già vissuto. Eh sì. Però nella cultura occidentale non c'è. Sta arrivando adesso. Ecco io sono incarnato qua per diffondere questo. E non ho discepoli, non ho seguaci. Attenzione, infatti qui ho tolto anche i commenti sotto i video. Puoi diffondere i video, puoi leggere i libri. Se tu pensi che sia un maestro, allora sappi un maestro senza discepoli. Io non voglio seguito, non ho seguaci. Tu di me puoi capire quello che riesci a capire e io posso comunicarti quello che sono riuscito a capire. Giochiamo esattamente alla pari. Come vivere sul pianeta terra? Consapevolmente. In alcuni video ho detto respiri 24 ore al giorno, fermati 5-10 minuti, sdraiati, chiudi gli occhi, sediti in poltrona, respira consapevolmente, assorbendo energia cosmica. Quando vai in campagna, vai al mare, vedi un albero, una iola, una collina, una montagna, un fiume, un lago, c'è energia cosmica. Fermati, respira, assorbi energia cosmica. È inutile parlare, che bello. Assorbi bellezza, forza, luminosità, potere, capacità, qualità. Assorbi. Come vivere sul pianeta terra? Bene.